puntese gomme dal 1997 si prende cura della tua auto e per farlo al meglio si serve della più moderna tecnologia partner maestro michelin offre ai suoi clienti un'assistenza completa e di qualità dalla scelta degli pneumatici più adatti al loro montaggio convergenza equilibratura rivendita e da oggi anche meccanica puntese gomme in via della regione 102 104 a san giovanni la punta e la risposta che cerchi a tutti i tuoi problemi ben ritrovati amici stellari iniziamo con il segno della riete una faccenda seria impegnativa si presenterà inaspettatamente affrontate la con spirito allegro e goliardico tanto il risultato finale qualunque sia il vostro comportamento non cambierà toro prendetevi una giornata tutta per voi la persona del cuore fate sentire la vostra presenza e create una maggiore intimità nella coppia che nell'ultimo periodo ha avuto poco tempo a disposizione per le fusioni e la complicità indispensabili per un buon menage gemelli fate in modo di organizzarvi prima che qualche figura poco gradita possa piombarvi a casa e senza alcuna sensibilità farvi saltare le piacevolezze di un fine serata sereno e rilassante visto che nell'ultimo periodo pochi momenti di relax cercate almeno oggi di essere un po più risoluti del solito cancro disintossicatevi oggi approfittatene per prendere una tisana o qualcosa di simile che possa servirvi a depurare il vostro corpo nell'ultimo periodo non avete curato come dovreste la vostra alimentazione cibi frugali e troppo elaborati arriva la primavera sarà necessario essere in perfetta forma fisica leone oggi famiglia figli e nipoti cancellate un impegno e dedicatevi alle persone care che spesso vedete poco organizzate un momento di aggregazione di incontro da poter condividere con loro più intimità servirà a ristabilire legami importanti indispensabili per la vostra serenità personale vergine un incontro segnerà un nuovo periodo nella vita sociale adesso vi inserirete in ambienti del tutto nuovi e che nel prossimo futuro serviranno a portare avanti un progetto che vi sta particolarmente a cuore bilancia oggi lasciate stare gli affari tra l'altro la luna non garantisce la buona riuscita piuttosto dedicatevi agli affetti più cari e sperimentate un modo piacevole per trascorrere la vostra giornata in piena serenità scorpione non eccedete oggi sarà meglio stare in campana precauzioni negli spostamenti siate meno distratti e non accettate le provocazioni di chi conosce bene il vostro irrefrenabile impulso potrebbe essere distruttivo per le nuove relazioni sagittario poca credibilità intorno a voi siate più diffidenti guardati fatti e sentite meno le parole solo così riuscirete a scampare un imminente tranello capricorno accettate un invito saranno le persone sinceramente amiche a rendervi più felici quindi anche se non ci sarà etichetta rispetto e l'affetto valgono molto di più acquario un fine serata di eros e sesso se ve lo avessero pronosticato qualche giorno fa tutto questo grande movimento riguardante la sfera intima non ci avreste mai creduto e invece oggi ne avete totale conferma comunque c'è da dire che siete coinvolti sentimentalmente quindi forse è arrivato il tempo di pensare all'amore e al futuro di coppia pesci qualche insoddisfazione nella vita del cuore non mancherà una scelta adesso vi pesa e decisioni inaspettate magari impegnate la vostra mente in qualcosa che vi piace per esempio stare in compagnia di persone sincere e pensare positivo vi farebbe bene un abbraccio stellare da lucia arena l'oroscopo è stato offerto da puntese gomme via della regione 102 104 san giovanni la punta l'oroscopo è stato offerto da puntese gomme via della regione